Allora, ho sentito il mio collega Miki, che praticamente l'hanno chiamato stanotte che è lui nella task force, è andato insieme a rianimatori, primari, in direzione sanitaria, fottile di gente, sono andati a Lodi. A Lodi c'era questo paziente, poi hanno preso la moglie e c'era anche quello che è tornato dalla Cina. Il problema è che questo paziente è stato due settimane ricoverato in medicina, così alla cazzo. Quindi può essere tra virgolette infettato i pazienti che erano lì, infermieri, medici, quindi l'ospedale di Codogno è chiuso, praticamente lo stanno chiudendo. In più, Michele è scortato dalla polizia, stanotte è andato a fare i tamponi alle famiglie di questi qua infettati, sono arrivati a sacco. Raga, lo sapete adesso, però lo dico a voi, perché adesso ancora non si sa in giro la notizia. E metà di questi tamponi sono positivi. Quindi, raga, io non so adesso se si diffonde il nostro coronavirus, però sono stati a contatto con tante persone questi qua. Mettetevi la mascherina se andate proprio in luoghi comuni, o comunque lavatevi spesso le mani, di qualsiasi cosa che toccate, lavatevi le mani di brutto. Di brutto non mettete un cazzo in bocca, cioè nel senso, non mettete niente in bocca, le mani sporche in bocca, lavatevele sempre. Perché adesso, non so, a sacco c'è un casino, ho sentito anche il mio collega dalla rinimazione, c'è un casino. Sta arrivando un altro intubato positivo coronavirus. Quindi, adesso non faccio seria perché non sapevo tutta sta roba, mi raccomando i luoghi affollati. E lavatevi le mani. Grazie.